dj di ama italia quando sarà un po più grande ma cecile preparati che che in inglese come le tue canzoni e dovrai cantarle anche queste filastroche un po internazionali va bene buongiorno elisa buongiorno buongiorno benvenuta non stai bene ma stai benissima è una bella faccia che la maternità alle donne fa veramente fantastico è come se ci fosse una specie di resa cioè il cambio di tanto impegno e sofferenza in cambio vi fa diventare più belle grazie è stata è stata una sofferenza è beh un po sì un po sì ok l'hai dimenticato in questi quattro mesi o ti ricordi ancora allora per fortuna inizio a dimenticare seriamente e spero in maniera definitiva c'è un fesso che ti ha chiesto se è più difficile partorire una canzone o una bambina in questi mesi ahimè sì quindi c'è un esercito di pesi non sei l'unico volevo candidarmi come primo ma lente ok e quindi devo rispondere no per carità per carità risposto con quella faccia che hai fatto adesso per carità no no già mai sta nevicando un po dappertutto abbiamo scoperto che tu sappia nevica anche a Monfalcone allora so che ha nevicato qualche giorno fa però no mi sembra che oggi no no non ho notizie di neve è piccola lì comunque no è qui è qui come è sì è qua il milanese oggi scusate ma c'è qualcuno di voi qualcuno ha i telefoni se ce l'avete o lo spegnete o lo lasciate fuori grazie 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 al prossimo segnale verrete buttati fuori dalla finestra Cribbio Cribbio bellissimo pochi in otto tipo la porti sempre dietro la piccola? sì 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 no perché ti abbiamo visto in questi ultimi mesi è qua è qua è qua che bello non qui a Radio di Genia ah ok a Milano ok l'abbiamo visto molto impegnata in televisione a Sanremo ci sono in molti programmi e lei è sempre dietro per forza e si fa spostare eh sì? sì 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 ma no è partita bene adesso vediamo se si va avanti così perché poi sto lattando quindi non ci possiamo separare dovrei tirar fuori veramente dei litri impossibili di latte non so quando non so come ma poi avendo due genitori come te e il tuo compagno che appunto fate lo stesso lavoro in grosso modo infatti non è che abbia molte scelte lei? purtroppo no anche di questo spero di non prendere delle randellate in futuro senti e questo nome così elaborato come mai? anche questa è una domanda banale però ce ne devi rendere conto si chiama Emma Cecilia sì 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 ha due nomi il nome doppio proprio anche perché mi hanno spiegato che c'è una differenza tra se uno magari dà il secondo nome allora può anche scrivere solo il secondo nome sparisce un pochino sparisce è una stupidaggine puoi scrivere Emma e l'altro non vale niente non c'è e invece avevo detto no andiamo fino in fondo Emma Cecilia ok Emma Cecilia ci siamo guardati l'ultimo momento in cui potevamo decidere è andata così ti possiamo chiedere anche l'origine o sono cose private? no 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 beh Emma ci piaceva ancora prima che di concepirla proprio pensavamo a Emma Emma se fosse stata femmina e poi niente in vacanza sarà stata un'insolazione Andrea beh è un po' brutto perché leggeva forse una modella su Vogue quelle cose brutte tipo leggeva Cecilia ah che bello Cecilia e poi abbiamo anche a me piaceva continuavamo Cecilia poi non volevamo rinunciare a niente abbiamo messo tutto un casino poi è stata Cecilia la protettrice dei musicisti anche per questo c'è un piccolo collegamento assolutamente brava però lo spelling diverso perché li ricordava il pianista Cecilia io sono un po' scusatemi ignorante in materia non mi ricordo il nome intero figurati noi eh madonna mia stavo pensando Emma Cecil Rigonat si pronuncia così Rigonat Rigonat io ho sbagliato per anni e me l'ha detto veramente l'altro ieri mi sono fatto una figura pazzesca sembra un nome attizionante importante importante ma poi impressione Emma Cecil Rigonat mamma mia sembra quasi doppio cognome no? infatti tanti ho letto nel forum faceva morire da ridere la chiamavano si chiamava Cecil di cognome invece no come mai a Sanremo hai cantato una canzone di Sergio Enrico e chi te l'ha fatta conoscere visto che comunque tu per quanto sia ormai non più una bambina però prima di te è roba di Caterina questa? si allora si 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 che pezzo era poi? è canzone per te ah ok che l'aveva portata nel 68 con aiutato di Carlos Roberto Carlos grazie esatto in duetto che non era giocatore dell'Inter no che durata un po' romolivo si si per il brasiliano si praticamente me l'aveva fatto conoscere cioè io lo conoscevo di nome però Caterina mi aveva fatto conoscere un progetto per lui con tutto che lui aveva fatto delle rielaborazioni di poesie delle cose un po' complicate poesie di Emily Dickinson rielaborate da lui molto bello e da lì allora io mi ero ricordata di questo progetto che poi non si era fatto più nulla però me lo ricordavo e c'era questa idea di questo regista per questa edizione del festival di Sanremo in cui bisognava andare a pescare cioè ogni artista poteva scegliere quale canzone ripescare e riproporre e riarangiare e così sono andata proprio su internet a vedere cosa aveva vinto in che anno e ho detto però Sergio Indrigo perché sono andata a vedere e poi l'ho scoperta così e mi piaceva molto è bellissima noi torniamo invece al presente adesso e mettiamo la canzone che stiamo spavendo da qualche settimana che si chiama Anche se non trovi le parole